Continuano a chiamare i francesi cugini degli italiani, solo per una storia di antichi titoli nobiliari. Ma cosa avrà mai di parentela con noi il popolo che gira con la baguette sotto l'ascella? Non è dato saperlo. Ora Le Monde, la voce più autorevole del giornalismo francese, dice fate come gli italiani, non illudetevi, non si sta riferendo alla politica, ma al nostro modo di portare le calze. Pontifica il quotidiano, se si osservano gli uomini da seduti, soprattutto nella metropolitana, sembrerebbe che indossare le calze corte, che superano di poco la caviglia, sia diventata la norma. Conviene ricordare che il calze da uomo dovrebbero sempre arrivare a metà polpaccio e mai più sotto. Il rischio, per chi le indossa, è quello di apparire come la vittima di un errore di programmazione della lavatrice. Si vede che le lavatrici francesi non hanno quella nota proprietà di risucchiare sempre uno dei due calzini. Ma se anche quel genio di Clint Eastwood ha parlato dei calzini bianchi come metafora della vita, guai a chi storce il naso pensando che non siano un tema giornalistico e chissà che questo non possa servire da messaggio subliminale per gli altri nostri vicini, i tedeschi e i loro imprescindibili e santali con calze e toni.